Ex lavoratore Fudora, innanzitutto perché ex? Ex lavoratore di Fudora perché sono stato piuttosto attivo insieme al gruppo che si è autorganizzato e ha cercato di muovere questa protesta per affermare i diritti dei rider all'interno dell'azienda di Fudora e quindi in quanto attivo sono stato tagliato fuori dall'azienda, in quanto anche potenzialmente pericoloso e quindi per evitare che questo germe si espandesse hanno preferito tagliare fuori tutti quelli che si erano più impegnati in questa, chiamiamola, lotta per l'affermazione dei diritti. Che diritti? Diritti vorremmo delle tutele, vorremmo un salario che ad esempio non prevede una retribuzione incentrata solamente sul cottimo e quindi una retribuzione di tipo ottocentesco che annulla completamente tutti i rischi di impresa che vengono scaricati tutti sul lavoratore e quindi il rischio di impresa viene scaricato sul lavoratore che si trova per strada a correre anche il rischio di uscire doversi far carico di tutte quelle che sono le spese per appunto svolgere la propria attività e appunto di non guadagnare nulla perché a causa di possibili errori fatti dall'azienda che magari potrebbe eccedere nel mettere appunto rider su strada prevedendo degli ordini che poi magari non ci sono rischi appunto di non guadagnare nulla o magari di guadagnare solamente 3,60 euro per un'ora. Come abbiamo imparato un termine nuovo? Sloggare. Sì, sloggare, disattivare perché alla fine... Significa licenziare? Sì, significa licenziare perché se non si ha la possibilità di accedere alle piattaforme multimediali attraverso le quali si appunto dà la propria disponibilità al lavoro o se non si riesce ad accedere all'app non si lavora. Quindi se non si lavora è come se si fosse licenziati ed è quello che è successo a noi da quando è iniziata la mobilitazione. Cosa attendete da Fudora? Noi cosa attendiamo da Fudora? Intanto attendiamo delle risposte chiare, attendiamo di sapere il perché siamo stati fatti fuori nonostante alla fine stessimo facendo delle rivendicazioni che ci sembrano più che legittime. Ma soprattutto vorremmo capire quanto ancora hanno intenzione di portare avanti questo sistema di sfruttamento 2.0 che alla fine altro non fa che sfruttare la tecnologia per schiavizzare dei giovani e meno giovani che vessati da uno tasso di disoccupazione che supera il 40% volenti o nolenti si trovano a dover fare questo lavoro e accettare queste condizioni in un clima che è intimidatorio a tutti gli effetti.